Alessandro Basciano è tornato a far parlare di sé, questa volta durante la sua partecipazione a Verissimo, dove ha avuto modo di aprirsi ancora una volta sulla sua relazione con l'ex compagna Sofì Codegoni, madre della loro figlia, la piccola Celine Blu. L'ex volto noto di uomini e donne e del grande fratello Vipa ha raccontato di aver attraversato un momento particolarmente complicato della sua vita, che ha influenzato sia la sua sfera personale che professionale. Mi sono fatto aiutare, sono andato in analisi. Ho fatto un bel percorso. Avevo una forma di depressione, con attacchi di panico e attacchi di ansia durante la notte, ha confessato apertamente Basciano. Riguardo al suo rapporto con Sofì, ha aggiunto, non stiamo insieme al momento ma non vedo le nostre strade del tutto separate. Viviamo di alti e bassi. Ultimamente sono stato un po' destabilizzato da lei. Quando Silvia Tofanin, conduttrice del programma, gli ha chiesto se fosse ancora innamorato di Sofì, Basciano ha risposto enigmaticamente, ho parlato tutto il tempo di lei. Tu cosa di? Nonostante l'interesse del pubblico per le vicende sentimentali dell'ex coppia, durante l'intervista un altro aspetto ha catturato l'attenzione, il nuovo look di Alessandro. Molti spettatori hanno notato un cambiamento nel suo aspetto fisico e si sono riversati sui social per commentare. Ma cosa ha fatto in viso e in perché si è riempito così di Botox? Era un bel ragazzo prima, sono solo alcuni dei messaggi condivisi. Altri hanno espresso giudizi ancora più severi, ma sta diventando una donna. Inguardabile e inascoltabile, sembra di gomma. Sembra un fantoccio con dentiera, era più bello prima. Mi chiedo perché utilizzare la chirurgia plastica per rovinarsi. Nonostante le critiche sul suo aspetto, Alessandro Basciano ha preferito non rispondere direttamente. Tuttavia, il suo amico e noto esperto di gossip, Amedeo Venza, è intervenuto per fare chiarezza, affermando che il cambiamento estetico di Basciano fosse dovuto a una combinazione di trucco e a un recente intervento al setto nasale. Mi stati inondando di messaggi. Non voglio fare l'avvocato di nessuno ma in questa intervista è stato truccato in quanto era reduce dall'intervento avuto al setto nasale perché aveva problemi di respirazione. La spiegazione ha suscitato ulteriori domande da parte dei fan, che si chiedono se davvero il make-up possa alterare così tanto i connotati di una persona o se vi siano altre ragioni dietro il cambiamento di Basciano. Nonostante i dubbi e le speculazioni, l'ex Geffino ha preferito lasciare che siano gli altri a discutere, senza entrare nel merito delle critiche.